Ok Ce l'ho fatta Non ci credo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Eccola qui Bellissima Oh mio dio ragazzi Sono finalmente riuscito a vincere Il mio primo torneo Quindi il mio primo torneo Con la skin in paglio E il mio primo torneo galaxy La mia prima skin galaxy Perché non ne ho le altre io E' fantastica C'è anche lo zainetto Vediamo subito Fantastico Bellissimo Perché si stesse chiedendo Come mai Non ho ricevuto anche Lo spray Che era incluso E' semplicemente Perché L'avevo già riscattato Perché ho fatto il torneo Ieri 16 luglio E oggi 17 L'ho giocato meglio Perché ieri 16 luglio Mi sono ricordato all'ultimo Che c'era il torneo da poter fare E quindi Quindi non l'ho giocato Ho fatto 22 punti In 3 partite Ho detto 22 punti In 3 partite E' un po' poco Poi però Ho guardato E ho visto che C'è gente Che è riuscito a vincere Facendone 27 di punti 27 punti Per Per avere la skin 27 punti Per avere la skin E' pochissimo Ragazzi E' pochissimo Contando il fatto Che in una partita Riesco a fare 11 punti Andando fino alla top 15 Circa Senza fare kill Camperandomi Tutto il tempo In 3 partite Riesco a avere Già la skin E ho fatto La stessa cosa Adesso qui Vi metterò un po' di clip Dove vi racconto Un po' come è andata La mia Come è andato Il mio torneo E' stato un bel casino Ragazzi Infatti giocavo sul mio telefono Che era bollente Letteralmente Potevo cuocerci sopra Delle uova In una salsiccia E sarebbe uscita perfetta Perché era bollente Rovente L'ho messo in carica 3 volte L'ho staccato dal cavo Per cercare di farlo Areggiare Ogni volta che Schiattavo E dovevo rifare una nuova partita Mettevo il telefono Addosso al ventilatore Per farlo raffreddare Perché proprio Era bollente Ma Sono riuscito a giocare Tutte e sette le partite Con Un po' di top Sul top 15 Top 20 Alcune ho proprio fatto schifo Ragazzi sono morto Prima della top 75 Quindi ho preso 0 punti Per la partita Ma Sono comunque riuscito a giocare Sono riuscito anche a fare Delle kill Non so come Vi metterò un po' Le clip Ovviamente ragazzi Le clip Non sono tante Perché Non potevo mettermi a registrare Per far surriscaldare Troppo il telefono Ho fatto qualche screen Qualche registrazione Per far vedere un po' Com'è che era la situa E la situa Non era per niente bella Mi sono messo Il mio soldatino verde Per potermi mimetizzare Se mi camperavo nei cespugli Per avere la skin Bella Che si Mascherasse Ha funzionato Detto sincero Alcune volte ha funzionato Però poi sono stupido io E sono uscito per combattere Dicendo Ah ah Adesso lo faccio fuori Solo che mi sono ricordato Che non ho il mio controller Sono su una console Su una piattaforma Che non so usare E ho fatto schifo E ho proprio preso Eeeh Avete capito cosa ho preso Alla fine Sono uscito a vincere Facendo 63 punti Con un totale di Circa 4 kill Fatte In tutto il torneo E ragazzi Sono tante per me 4 kill Giocano la telefono Non dovrei parlare Ma ragazzi Erano proprio scarsi Tutti quanti Posso dirlo Quindi neanche me la sento Di flexarmela Per come ho vinto Questa skin Però L'ho vinta 63 punti Ne servivano circa 27 30 Circa 40 Massimo Per poterla avere E Wow E quindi Se per avere la skin Bastava arrivare Nella top 4500 In Europa Immagino proprio Che 27 punti Bastavano davvero Quindi ragazzi Questo qui È come ho ottenuto La bellissima skin Kari La Arcera Galaxy Non so come chiamarla Con la sua bellissima Fretra Detto questo ragazzi So che voi state aspettando Di vederla In partita Per vedere un po' Come si muove Questa fantastica skin Ma prima di startare Vi ricordo tutti quanti Di iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti Dai ragazzi So che dovete iscrivervi ancora Attivate la campanella Se non l'avete ancora fatto E soprattutto Lasciate un like Per il grandissimo supporto Che mi volete dare Allora È fantastica Ho aggiunto anche i picconi Quelli personalizzabili Con la copertura E ci ho messo la copertura galaxy Perché così È più bello Ma ovviamente Aspetto che esca il bundle Che sarà scontato Visto che ho già la skin Così posso pigliarmi Il suo zainetto Bellissimo No il suo piccone Cosa stavo dicendo Il suo piccone Che ve l'ho fatto vedere Negli scorsi video Delle update Se ancora non avete guardato Andate a vederlo Lo troverete qui O nel mio canale Quindi date un'occhiata Al mio canale E È un pugnale Bellissimo Che voglio assolutamente Perché Credo sia l'unica cosa Bella del set Niente da togliere a lei Perché è davvero bella Ma il pugnale È fantastico Io terravo praticamente Ogni volta A questi funghetti Qua Perché questi funghetti Perché erano dispersi Nessuno Se li ha mai Cagati Non venivano mai Considerati Atterravo qua Pegliavo le cose Sui funghi Così nel caso Se c'era qualcun altro Avevo l'high ground Poi Le mie armi Erano Il pompa Pompa Automatico Quindi rapido E la mitraglietta Alcune volte ho preso il DMR Ma tipo la mitraglietta carica Non sarei mai riuscito A utilizzarla Perché devo essere preciso E non lo ero Avevo poi L'impostazione Del Sparare con La La mira automatica Cioè devo Mirare E poi appena passava qualcuno Davanti al birino Sparava da solo Cosa carina Ma allo stesso tempo C'era schifo E Mi ha complicato Molte cose Sinceramente Però questo qui Era il giro Che ho fatto Ogni partita Se avete riconosciuto Vedendo il video Che avevo mostrato All'inizio Della clip Che ho registrato dal telefono Mi camperavo In questa casetta qua Qui dentro Ho visto un pompa Che andrò a prendere subito La skin è fantastica Comunque Davvero bella Mi piace proprio il suo design Perché è sul Metallico Argento Ma comunque Ha quel viola Che spacca Anche fare così Guardate Guardate come cambiano i colori Bellissima Bellissima E Non Dà fastidio Come le altre skin galaxy Che sono belle tutto Ma sappiamo che la skin galaxy Con la bella È quella originale Quindi la numero uno Che si poteva prendere Col telefono Oh C'è qualcuno Come avevo detto Non sono il massimo Ma vi posso giurare Che le battaglie Che c'erano Sul telefono Erano molto più tristi Di quelle che avete appena assistito Bene ragazzi Questo è stato come Ho vinto questa skin Completamente gratis Bellissima La utilizzerò Per la prossima settimana Per flexarla Tutti quanti Poi uscirà nel negozio Oggetti Non la utilizzerò più Perché Cioè ce l'avranno tutti Quelli che l'avranno Nel negozio oggetti Questa cosa un po' Mi dà fastidio Sinceramente Però Metto in tasca E sto zitto Se anche voi Vorrete avere la skin Vi ricordo Codice creatore Dave14 Nel negozio oggetti Quando lo andrete A comprare Detto questo ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per aver partecipato A questo breve video Vi ricordo tutti quanti Di passare anche Nei link Della descrizione Sulla mia pagina Instagram Sul mio canale Twitch Dove andremo a fare Tanti minigames assieme Con premi speciali Io vi saluto E non ho altro da dire Ciao a tutti quanti